Dicolo, facciamola smettere, si vede dagli occhi che tu stai male, stai male? Eh? Stai male? Sto male a leggere stai... Chiara, ti sfido a mangiare la nostra barca di pasta in 30 minuti e sarà tutto gratis. Eh no, ti pareva facile, devi mangiarti anche 3 cramlo, scocchi e 3 fiocchi di neve. Perché questa discriminazione? Eh perché tu sei che lo mangia tutto. Accetti la sfida? Accettiamo la sfida. E sfida sia, cominciamo. Accettiamo il bavaglino. Da grandi poteri, grandi responsabilità. Ma esco il timer? Via. Fatito. Affrontati, coraggiamento. Applauso. Buon appetito. La pasta della sfida è una zozzona con carbogrema, salsiccia, guanciale e dei pomodorini. Giusto per tenerci leggeri. Sì, però mi dà fastidio sto bavaglino, me lo posso dobbiamo. Ma sì, dai. Con l'incoraggiamento. Vediamo se mi ricordo come si fa. Quindi sollevamento di pesi, fai alimentazione per così io lo dico al mio cocci. Dico guarda che... Non seguo sempre la mia stessa dieta di prima. Ok, ok. Minestro, esatto. E come prendi massa con il minestro? Volevo integrare con la creatina, magari le proteine. Codice sconto su Prodizio. Ma la Coca-Cola non la riempie di più, questo lo vorrei capire. No, Marco Rossi diceva, bevi la Coca-Cola che ti fa digerire. Ah, ecco. Begretto per non ingrassare. Lasciatevi... Una scarpetta tra un po'. Quanto manca? Michele, qualsiasi? Abbiamo 24,40. Devo attivare l'ultraestinto, signori. Deve uscire qui. Guardate che carino. Fiocco di neve. Fiocco di neve. Dolce e scivolo e selva è una sfida, vero? Sì. Dicolo, facciamola smettere, si vede dagli occhi che stai male. Stai male? Stai male? Sto male a leggere ste... No, adesso non ci sta, ciao, andrè. Te li perso la live, te li perso. Quanto manca? Ti davano 16, 26 e 40. E quattro minuti? Sì. Vabbè, però facciamo 35, che era la calma. Come li facciamo tutti? Con amore. Brava. Dicono che sei bella, comunque. Almeno. Una bella notizia in questa palla di raggono. Il mio cuore c'è già qualcuno. Come fa ad essere così maga con tutto quello che mangia? Mistero della fede. Annunciamo la tua morte a finire. Ultimo morso. Meritata, strameritata. Solo te potevi riuscire. Questa te la porti a casa, la tua collezione, la nostra modesta medaglia London Caffè per Chiara Maggiù. È stupenda. Grazie mille. Guardate quanto è carina. Solo tu potevi finirla. La barca l'ha finita in 25 minuti. Regà, da grandi poteri derivano grandi responsabilità. Ragazzi, da me è Carmen, è tutto. Ci vediamo al prossimo video. Alla prossima sfida.